Buongiorno amici bianconeri, ora più che mai i giocatori devono uscire fuori le palle. Questo è quello che richiede ai giocatori. Io li sto difendendo, li sto mettendo nella parte del giusto, li sto giustificando, sto giustificando l'ingiustificabile. Ma ora è il momento di uscire fuori gli attributi. Onestamente, lo so, ci stanno tartassando ovunque, ci vogliono ammazzare. Ma i giocatori devono reagire. E vi dico come, solo dopo che, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale perché è gratuito, mi sostenete, lasciate un like, commentate e attivate la campanellina. Così non vi perderete mai un video e siamo sempre live qui con la nostra Juventus per difenderla, onorarla e sostenerla. Poi mi raccomando, app bellissima a tutta italiana, numero 10, scaricate, avete tutte le notizie di calcio in prima linea, Sere A, calcio femminile con calcio mercato, varie notizie, la vostra squadra del cuore, video, nell'appi trovate i migliori giornalisti, migliori influencer, link in descrizione su questo video. Lei siete incedemente, madame messia, signore e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi, bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Parto dicendo, ora servono gli attributi. Vi abbiamo difeso. Stiamo cercando di starvi vicino, però voi dovete reagire. Perché tornando alla partita di Juve Monza, la batosta mentale è stata grande. Ma ricordiamoci sempre che avete giocato contro una neopromossa. Perciò ora cosa voglio da voi? La reazione. Voglio che ognuno di voi diventi un leader. Noi sappiamo che per noi attualmente, vista da tutti, il leader è il signor Danilo. Ma il signor Danilo è stato il primo che ho visto cadere emotivamente. Ci sta, è un essere umano, ci mancherebbe altro. Ma ora, noi tifosi onestamente, è come dire, anche noi emotivamente siamo giù. Ma siamo sempre lì a sostenervi. Ogni tanto si sbaglia, scappano qualche fischio per qualche giocatore che a nostro avviso non dà il massimo impegno. L'abbiamo notato con Messi Ken. Desciglio. Però vi ricordo che domani c'è Juve Lazio. Domani c'è Juve Lazio, quarto di finale. È una competizione che ci teniamo, visto che dalle altre competizioni siamo ormai lontani e fuori. Non per colpa vostra, giocatori. Perché, come dire, queste sentenze pazzerelle ci vogliono annientare. Per il momento di tirare fuori gli attributi. Fuori gli attributi. Coltello fra i denti. E ricordarvi che indossate la maglia della Juve. È stata dura, lo so. Ma ragazzi, ora bisogna reagire. Ora basta. È il momento di reagire. Questa cosa qui non finirà domani o dopodomani. Questa cosa qui finirà a maggio. Fino a maggio ci saranno ricorse e processi. Lo so, non è facile. Non si può durare di qua fino a maggio col pensiero. Ma come finirà? Vinciamo? Non vinciamo? Retrocediamo? Ci daranno più punti? Ci rideranno i punti? Pensate al campo, carissimi. È il campo quello che conta anche oggi. E se voi dimenticate che è indossata la maglia della Juve, non avete capito un bel niente. Come noi stiamo venendo allo stadio a sostenerli, giusto che sia, voi in campo dovete dare il massimo ora. In questo, allora, è ora che si vedono i leader. È ora che si vedono i veri giocatori. È ora che è importante che la Juve faccia bene. Quando la Juve andò in Serie B, campioni del mondo, rimasero lì a combattere. Ad onorare questa maglia. Voi carissimi ancora non siete in Serie B. Non siete in Serie B. Ci hanno tolto 15 punti e ancora altri processi. Ma vi voglio ricordare e vi ricordo che ancora c'è un girone di ritorno da giocarci. E ce lo dobbiamo giocare sul campo. La giustizia, quella che sarà, sarà. La Juve lavorerà. La Juve lavorerà per difendersi. Anzi, ancora di più. Al signor John Elkan, il nostro patron. Alza la voce! Alza la voce e fatti sentire, carissimo John. Perché è arrivato il momento che gli avvocati bravi ci vogliono. Ma gli avvocati bravi ci vogliono quando ci sono gli illeciti sportivi per difenderci. Ma qui hanno costruito un castello di paglia. Perciò, carissimo John, più che una squadra di bravi avvocati, devi uscire la voce tu. Come hanno uscito la voce altri presidenti in passato e hanno ottenuto tanto. Chi non è andato in Serie B a Calciopoli? Chi ha avuto la prescrizione? Non sono stati gli avvocati. Sono stati i presidenti che si sono fatti sentire. Se tu ami la Juve, se tu dici che la Juve è il grande dono che ti ha donato tuo nonno, bene! Difendila, alza la voce, dimostra che c'è questo attaccamento. Dimostralo, tu, anche allo stesso mister, di dare una scossa a questi giocatori. Che sono ormai mentalmente distrutti. Noi tifosi siamo lì, sempre a difenderli, a sostenerli, facciamo di tutto. Ma anche tu, carissimo Massimo Nallegri, devi capire che siamo in una barca che rischia di affondare e c'è bisogno che tutti stiamo uniti insieme, ma dovete farvi sentire, dovete fare capire ai giocatori che la Juve ha bisogno di leader, non ha bisogno di seconde donne, non ha bisogno di secondi attori, non ha bisogno, come dire, di coprotagonisti, solo protagonisti, che scendono in gambo col coltello fredenti e dimostrano che questa maglia va onorata, a prescindere dalle sendenze. Noi facciamo un ottimo campionato, cerchiamo di vincere il più possibile. La giustizia sarà ora poi in secondo piano. Se giochiamo con la mente e i processi, non andremo lontano. Ci faremo male da soli. Daremo alibi a chi ci condanna e gli anti-juventini, tanto con i punti che avete senza le penalizzazioni, siete arrivati a metà classifica. Cosa state cercando? Oggi la Juve è terza in classifica, senza punti di penalizzazione. Perciò dimostriamo che meritiamo, perché per me siamo ancora in alto in classifica. Io non guardo i punti di penalizzazione, perché so che questa volta finirà in modo diverso, salve eccezioni catastrofiche, perché qui c'è da aspettarsi sempre di tutto. Svegliatevi carissimi giocatori, svegliatevi da questo brutto incubo iniziato a giocare a calcio, iniziato a giocare a calcio per la Juve, per questa gloriosa maglia, per questa maglia che c'è stata gente in passato che si è fatta la Serie B, stando muta. Con la Coppa del Mondo vicino al comodino. La mattina la carezzavano e la sera si scendeva in campo per la Juve. Perciò ricordatevi che non dovete essere delle femminucce, con tutto il rispetto per la donna che forse a volte ci sono donne migliori degli uomini, ma in campo bisogna scendere con la forza, con la grinda, con la caparbia, personalità, dovete mettere tutto. È finito ora il tempo degli albi, purtroppo è finito. Non possiamo continuare a beccare schiaffi dentro il campo e fuori dal campo, perché noi tifosi siamo stufi. Noi tifosi non siamo mai tutelati da nessuno, né dalla società, a volte neanche da voi giocatori. E noi siamo sempre lì. Siamo sempre lì a sostenervi. E per sostenervi noi spendiamo dei soldi. Non è che veniamo pagati, siamo dipendenti della Juve e veniamo lì a sostenervi. Non è così. Noi spendiamo soldi per sostenervi. Ma voi dovete ricambiare sul campo, mettendo grinda, mettendo anima. Così che chiudo questo video. I giocatori sul campo lo devono dare anima. Spendere tutto quello che hanno per la Juve. Il mister deve svegliarsi e dare più carica a voi e cercare di mantenervi lontano dall'extracampo. Mentre il presidente, perché per me il presidente è John Elkan. Mi dispiace per il signor Ferrero, ma io... Presidente, vedo chi ha la Juve nel cuore. E spero che John Elkan abbia la Juve nel cuore. Spero, lo spero vivamente. John, fatti sentire in qualsiasi aula, in qualsiasi ufficio della Lega e della FIGC. Dighiolo a tutti che noi siamo la Juve. Che la Juve non deve essere toccata anche perché, diteglielo chiaro, la Superlega ha vinto il ricorso. La Superlega, attenzione, si può fare, si può formare. Ci mandate in B. Ce ne andremo a fare la Superlega. Adiosse. E vi lasciamo questa povera Serie A che cadrà a pezzi pian pianino. Cariche e forza a tutti e tutti uniti per la Juve. Fino alla fine forza a Juventus. Imi ne vaio o sa benedica a tutti. Ciao.